E' stata presentata questa mattina nella sede dell'ente provinciale del turismo a Caserta la seconda edizione della mezza maratona Reggia-Reggia che esiterà domenica 22 novembre. Lo scorso anno i partecipanti alla mezza maratona che si snurderà attraverso le strade di Caserta, Casa Giove e San Nicola, la strada, furono oltre 2000. Una gara polistica che permetterà ai partecipanti di aprire e chiudere il percorso proprio nella reggia vanvitelliana, attraversando le strade del capoluogo casertano e non solo. Le amministrazioni delle tre città a tal proposito hanno aderito all'invito degli organizzatori concedendo il loro patrocinio alla manifestazione. Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati alcuni dettagli della manifestazione, alla presenza del presidente del CONI De Simone, delle istituzioni politiche locali e di un gradito ospite, la stella del basket casertano Nando Gentile. Un evento internazionale ha ricordato il testimonial di eccezione in dimenticato ex play della Fonola Caserta, vincitrice dello Scudetto nel 1991. Ad arricchire il programma della domenica anche una stracittadina, una non competitiva che vedrà tantissimi giovani alla via e con loro meno giovani a confrontarsi sui tre chilometri previsti. Niente di agonistico in questo caso, solo ed essenzialmente una grande festa. Visto che soprattutto i master saranno i protagonisti della mezza maratona e visto che proprio quella di Caserta è stata la provincia dove è nato e si è sviluppato il settore, facile dire che il 22 novembre la corsa correrà in casa e la casa sarà reale, decisamente reale.